Eminenza di questa virtù Tutte le virtù sono belle, ma pure a questa virtù di cui parliamo si attribuisce per eccellenza il decoro e la bellezza, come scrisse già San Tommaso. Io vi presento in primo luogo a considerare l'Emminenza di questa qualità. Osservate, l'uomo è un composto di due sostanze, corporea l'una, l'altra spirituale. È quasi di mezzo fra gli angeli dei quali partecipa l'intelligenza e fra le bestie con cui accomune la vita animale. Se l'uomo si solleva ad operare con la sua mente è quasi un angelo e se si abbassa ad obbedire alla concupiscenza che milita nelle sue membra è quasi una bestia. Perciò la scrittura, parlando dell'uomo che abbandona il posto sublime a cui si era già innalzato, vivendo secondo la ragione e lo spirito, per accondiscendere alla sua carne, così si esprime. L'uomo non riconobbe lo stato di onore in cui egli era, fu posto al confronto con i giumenti insensati e divenne quasi uno di loro. Bruttezza del vizio contrario. Ecco la luce a fronte delle tenebre. La luce rende quasi più tenebrose le tenebre e le tenebre più luminosa la luce, perché non meglio si conosce una cosa quanto dai suoi contrari. Infatti non mai si capirà meglio, né con maggiore evidenza, la bella disposizione delle parti del corpo umano che dopo averne con ipotesi capricciose sconvolto l'ordine e rovesciata la simmetria, se un uomo ponesse il capo sotto i piedi e i piedi innestasse sul collo, che orrido mostro, che deforme spettacolo sarebbe mai questo a vedere? L'uomo dissoluto eseguisce ciò appunto e tanto ancora peggio, non già in immaginazione ma in verità, poiché egli toglie la ragione da quel luogo superiore ove Dio l'aveva collocata a reggere e a dominare, e la caccia sotto i piedi facendola servire alle passioni. Queste poi, che sono nate a ricevere legge e freno, le sostituisce in luogo di capo, a signoreggiare e prevalere. Che si può dare di più sconcio? E queste sono le deformità che cadendo sotto gli occhi a tutte le ore si attirano le risa, gli scherni, le beffe del volgo ignorante e cagionano nei più sensati nausea, orrore, dispetto. Se si incontrassero in uno specchio giusto e veridico certi uomini e certe donne che fanno oggetto di pompa la loro confusione e di gloria le loro ignominie, son ben io che stupirebbero a riconoscere la mostruosa loro comparsa, e si cangerebbe in oggetto di alta abominazione il motivo dei loro folli vaneggiamenti e deliri. Grazie a tutti.